ma siamo fidati siamo fidati se è stato scritto è il circolo che abbiamo uno non è tu non lo vinci circolo 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 adrian ma cosa fa qui dell'adrian? dai piano dai che vinci dai che vinci che va a fare traverso circolo marino circolo circolo adrian bravi 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 terzi 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 grandiosi eroi quinto ginnastica sesto trieste nettuno trieste 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 e settimo nettuno ok grazie ci vediamo la penna